Buonasera, benvenuti su Ponti di Luce, mio nome è Elisabetta, ma mi occupo della tecnica del tapping, picchiettamento per liberare disagi, blocchi, traumi dal sistema energetico. Questa sera parleremo dell'invidia, del sentimento dell'invidia, cercheremo di capire, di comprendere i meccanismi dell'invidia e di lavorarci con la tecnica per sciogliere. Mirella, buonasera, attendiamo, ben trovati. Buonasera, serata del tapping, picchiettamento, parleremo del sentimento dell'invidia. Aspettiamo un pochino, procuratevi intanto una tisana calda o un bicchiere di acqua. Maria Rosaria, buonasera, ben trovati. Aspettiamo un altro pochino e iniziamo l'argomento, il tema di questa sera, che ci riguarda, in qualche modo. Il sentimento dell'invidia ha attraversato un po' ogni essere umano. Sappiamo che cosa vuol dire e ci possiamo lavorare. Morena, buonasera. Come state? Come state? Aspettiamo ancora un pochino. Iniziamo. Ok, quindi ho deciso di parlare di questo argomento, questa sera dell'invidia, e di praticarci poi il tapping, perché è un argomento che molto spesso, diciamo, può infastidire le relazioni. È un sentimento di invidia che può alterare molte relazioni, soprattutto la relazione con noi stessi. Quindi è difficile ammettere questo sentimento, perché noi ci vergogniamo di quello che proviamo, perché ci giudichiamo, pensiamo di essere sbagliati e di conseguenza facciamo fatica ad ammettere tutto quello che proviamo. Ma affinché non ammettiamo, non portiamo alla luce del sole, la chiarezza di quello che proviamo, non possiamo né riconoscerlo in fondo, né scioglierlo, salutarlo e lasciarlo andare. Quindi, ecco quante cose, quanti passaggi ci perdiamo nel negarne, nel rimuovere un'emozione, un sentimento che proviamo. Ora, qual è la differenza tra sentimento ed emozione? Un'emozione può essere improvvisa, subitanea, un'esplosione di rabbia, una cosa passeggera, che sento molto nel mio corpo fisico. Le emozioni sono stati d'animo materializzati proprio a livello fisiologico e lo sento subito e può durare anche poco. Un sentimento ha una durata più lunga. Antonella, buonasera. Nel senso che io posso ottenere un sentimento di invidia verso magari una persona o una serie di persone per molto tempo. Può essere, come dire, un sapore, uno stato d'animo che rimane stabile nel tempo. Che cosa, allora, a che cosa si riferisce di invidia? Dove nasce questo sentimento? Nasce chiaramente da una percezione di disvalore di se stessi. Quindi, io non sono ok, gli altri sono ok. Quindi partiamo da qui. E quando, diciamo, io parto da un presupposto di disvalore, chiaramente non c'è sufficiente amore per me, non sono in grado di apprezzarmi, non sono in grado di, come dire, di dare il meglio di me, di riconoscere quello che io posso offrire al mondo. Quindi non ho neanche un buon rapporto con i miei doni, i miei talenti. O magari li riconosco, però penso che non siano abbastanza e penso che gli altri abbiano più luce di me, brillino più di me. Penso sempre che gli altri abbiano qualcosa in più. Di conseguenza, le relazioni che vado ad instaurare sono slivellate. Non stiamo sullo stesso livello, ok? Claudia, buonasera cara. Stiamo su parametri diversi. E che cosa succede alla persona che in quel momento invidia? Succede che non è in grado di ricevere amore da parte dell'altra persona che in quel momento magari sta offrendo un sentimento sincero di amorevolezza. Tania, buonasera. Quindi la persona che si trova ad invidiare l'altro non è in grado di ricevere amore e può essere anche facilmente allontanata o comunque può essere non considerata, tra virgolette, se questo sentimento trapela e si fa sentire. Perché? Perché non è piacevole sentire che l'altro ti invidia, perché l'altro non è a suo agio e perché tu sai che non può ricevere il tuo amore sincero. Quindi si creano delle relazioni non paritarie e quando non c'è parità nelle relazioni, cioè non viaggiamo sulla stessa frequenza, non ci può essere uno scambio in qualche modo. Un dono che non è ricevuto non è mai stato dato. Non possiamo in qualche modo dare delle attenzioni o comunque fare dei gesti amorevoli verso chi non è in grado di riceverlo, verso chi pensa di non meritare di ricevere. Questo non vuol dire non amare la persona perché dobbiamo imparare ad amare tutti. Amare tutti nel cuore, portare tutti nel cuore, vedere tutti nella luce, vedere tutti come sovrani e imperatori che sono felici nel regno. Quindi l'amore è il presupposto di base verso chiunque. Poi come manifestare questo amore? Sto dicendo questo che su un piano materiale io magari non posso fare nulla verso quella persona perché devo rispettare il libero arbitrio. Tu lo sai che, Anastasia buonasera, tu lo sai che nessun angelo, nessun maestro viene a bussare la tua porta se tu non lo inviti, se tu non sei disposto, se tu non pensi di meritare questo contatto o di essere in grado di contattare le tue guide, i tuoi maestri. Loro non si permettono di infrangere le tue scelte, le tue convinzioni. Di conseguenza è tra noi esseri umani. Se l'altro non è disposto ad essere amato io lo posso amare nel mio cuore, ma su un piano fisico e concreto non posso farci niente. Vi dico soltanto che le mie guide ad esempio mi hanno fatto gettare degli oggetti perché erano impregnati di invidia e la persona invidiosa, Maria Grazia buonasera, se è onesta lo dice che lo è perché non c'è niente di male, perché può capitare di provare invidia verso qualcuno, è umano, ok? Se invece è una persona che ha paura e si vergogna e che si sente in colpa e che ha poca consapevolezza di sé ti dice ma no, io no, io mi voglio bene, io mi amo quella e invece no perché poi le energie le sentiamo, quindi uno può dire qualsiasi cosa ma poi l'energia si trasmette e si sente. Ora, quindi non dobbiamo giudicarci se proviamo invidia verso qualcuno, se pensiamo che qualcuno sia più fortunato di noi e non dobbiamo vergognarci di questo ma ammetterlo è liberatorio e questo è un primo step per liberarsi. Neda, buonasera, Loredana, Valentina, ciao, quindi è un primo step per liberarsi, può capitare, ok? Può capitare di provare invidia verso qualcuno, una situazione, un collega, un amico, una sorella, un fratello, può capitare ma se non lo ammetti è un qualcosa che tu lasci dentro di te che in qualche modo disturba le tue relazioni e va ad infangare i rapporti, quindi non giova a nessuno in realtà, ok? Quindi ammettere che a volte io mi sento inadeguata, che io faccio fatica ad apprezzare i miei doni, che io faccio fatica a riconoscere i miei talenti perché nasce tutto da qui, dipende da chi tu credi di essere, chi dici di essere. Se tu dici di non valere abbastanza scadrai facilmente in questo sentimento e quindi vedrai gli altri dal basso in alto. Se invece riesci ad onorare la tua luce, ad onorare la tua sovranità, a prenderti cura del tuo regno e a sapere che anche tu come ogni essere umano può donare tantissimo al mondo, può essere una luce meravigliosa per il mondo, allora cambia il rapporto con te e con gli altri, quindi devi cambiare, clara buonasera, il rapporto è una buonasera, con te stessa, con te stesso, questo è fondamentale. Quindi punto primo non c'è da vergognarsi di ammettere se, anzi sarebbe meraviglioso e onesto se tu dicessi a quella tua amica. Sai che a volte ti invidio proprio invidia? Verso la tua posizione, verso il tuo sorriso, verso la tua luce. Ditelo, non c'è niente di male. Questo rende il rapporto più autentico e onesto perché abbiamo bisogno di sincerità, abbiamo bisogno di onestà, questo è non di nasconderci. E poi non ci lamentiamo però se veniamo allontanati o se comunque delle relazioni vanno a scemare, che vanno già a scemare di suo, perché è umano anche questo, non è detto che non si porti la persona nel cuore. Però ecco, cerchiamo di essere i più onesti possibile su questo. O anche la gelosia, allo stesso modo la gelosia è legata più alla paura dell'abbandono, di essere messi da parte, legati alla possessività, quindi la paura di rimanere senza l'oggetto d'amore. E questo, lo stesso, anche questo è un sentimento che possiamo nutrire sin da bambini e va ammesso in qualche modo. Tutte le nostre emozioni, diciamo un po' di basso livello, di bassa frequenza, vanno ammesse prima di liberarci di esse. Se non le riconosco non mi posso purificare, non mi posso pulire, non posso utilizzare la tecnica per questo. Quindi, Caterina, io provo, dice non invidia, ma ammirazione. Grazie per questa distinzione, Caterina. Infatti, qual è la differenza? Che nell'ammirazione c'è l'amore, nell'ammirazione c'è la gratitudine verso l'altro e la gioia di frequentare una persona che magari su certi ambiti, ambiti eccelle, cioè su certi ambiti magari brilla un po' più di me. Io ringrazio, ringrazio di avere amici evoluti, ringrazio di conoscere persone che su certi aspetti magari sono più performanti di me o comunque hanno fatto un percorso, come dire, di crescita più avanzato del mio, perché posso imparare. Quindi l'ammirazione, Adele buonasera, l'ammirazione mi porta ad essere aperta nell'apprendimento e quindi di ricevere da parte dell'altro, ma nel ricevere non pensare che tu non hai nulla da offrire. Attenzione anche a questo, non pensare di ricevere basta. Anche tu sei una luce che brilla e che ha molto da insegnare e da donare agli altri. Non pensare che solo quella persona ti può dare qualcosa, pensa anche a quello che tu puoi donare. Adele, buonasera. Perché la persona che prova invidia pensa di essere anche povera, cioè di non dare e offrire nulla al mondo e invece no. Ognuno di noi, ogni essere vivente ha un talento, ha un dono, è luce che può offrire al mondo e a chiunque. Quindi non pensare che tu non abbia nulla da offrire. Questo è molto pericoloso, questo pensiero, quindi devi essere attenta qui. O non pensare di non offrire nulla a quella persona che magari su un percorso evolutivo o su certi aspetti potrebbe insegnarti un po' di più. Tu potresti insegnare su altri ambiti. Cioè comunque quando sappiamo che c'è scambio, questo è meraviglioso. Quando sappiamo che siamo delle ricchezze che possiamo illuminarci, è meraviglioso. Siddhartha mi disse, chiesi che cos'è l'amicizia? Sono due persone che illuminano entrambi le loro vite nella gioia. Quindi sono persone che sono consapevoli della loro luce e che la portano all'altro. Cioè è uno scambio condiviso. Antonella, buonasera. Sì, ok, quindi è uno scambio condiviso e quindi è fondamentale questo ricordarlo. Quindi non pensare di dover solo tu apprendere o essere illuminata dall'altro, no, ma di amarti di più grazie alla luce dell'altro. La luce dell'altro ti deve ricordare che tu ne hai altrettanta e che è la stessa luce, ok? Non esiste qualcuno che ne ha di più, di meno. Non c'è questa cosa. Quindi devi essere focalizzato sui tuoi doni per abbassare il livello di invidia e chiederti ma che cosa mi manca? Cioè qual è quel pensiero che mi fa scattare quel sentimento? Cosa penso che, cioè dove penso di mancare, di essere misera, di essere povera? Quindi questa è la domanda. E da dove arriva questa domanda? Chi ti ha messo in testa che ti manca qualcosa? E non confondiamoci sul fatto di avere degli aspetti da migliorare che è umano perché siamo qui in viaggio, quindi ognuno di noi ha degli aspetti da migliorare. Non vedere i tuoi aspetti da migliorare come delle lacune profonde, delle mancanze irrecuperabili. No, no, sono aspetti da migliorare, ok? Siamo qui in viaggio, stiamo facendo delle esperienze. Quindi accetta che hai degli aspetti da migliorare, ma questo non vuol dire che tu non abbia altrettante cose da donare, ok? Nedra, qualche volta sono stata invidiosa dell'affetto altrui. Poi ho capito che ognuno ha quello che si merita e ho cominciato a volermi di bene. Sì, sì. Mirella, buonasera. Sì, è così diciamo che in qualche modo ti vai a creare le relazioni in base a quello che pensi di meritare. E magari una persona che scadrà facilmente nell'indidia si sentirà poco amata perché non è aperta a ricevere amore. Non lo sa probabilmente, ma non è aperta a ricevere amore perché pensa di non meritare. Perché vede nell'ottica della mancanza, ossia vede nell'ottica della separazione. E qui la separazione è molto forte perché io non vado bene, questo è lo schema, io non sono ok, gli altri sono ok. Questo è lo schema di base che ha dentro di sé. Quindi non sente di meritare di ricevere, non sente di meritare di evolvere, di crescere, di liberarsi dai suoi blocchi. Pensa di rimanere sfortunata, pensa di rimanere manchevole per tutta la vita. Cioè non si dà la possibilità evolutiva di fare nuove scelte, di vedersi con nuovi occhi. Non si mette più di tanto in gioco, ecco. Magari è delusa dai propri errori, non si è perdonata degli errori, è delusa da forse alcuni cambiamenti che non è riuscita a fare. Allora è bloccata lì e quindi ecco che può scadere in questo sentimento di invidia, di desiderare quello che gli altri hanno perché lei pensa di non riuscire mai ad averle, a recuperare quelle parti o a godere della sua vita, ad essere veramente felice e a far entrare nella sua vita quello che desidera. Sto leggendo, adere dice il vero, il confronto ci aiuta a migliorare, decisamente sì. Ovviamente chi è ben disposto ed è molto empatico, sì. Tanto lo senti, la persona si è chiusa e non cioè è convinta, perché poi molto spesso le persone non lo sanno di essere invidiose. Cioè sono talmente convinte che si vogliono bene, che stanno a posto, non ho noio. E invece no, cioè purtroppo no, perché è un'energia che passa e la sentiamo. Letizia, buonasera. Le emozioni, anche quelle negative, le sento subito a livello fisico. Posso sentire un brivido, un calore, un rossore in viso e ci faccio caso. In questo modo le riconosco, le osservo e non le giudico. Perfetto, Letizia, esatto. Questo è un ottimo rapporto con le emozioni perché in realtà sono nostre amiche e dobbiamo imparare a riconoscere, a gestirle, perché sono tutti indicatori da parte dell'anima riguardo i nostri stati d'animo. Maria Grazia, spesso sono invidiosa di chi ha una famiglia, dei figli, perché non ho potuto crearmela, ma ho pensato che ognuno di noi ha un percorso che è evidentemente il mio diverso. Maria Grazia, sì, grazie per questa condivisione. Chiaramente se la tua anima ha scelto questo percorso, tutto ciò ha un senso. Ricorda che a volte il fatto di desiderare dei figli o di una famiglia è un condizionamento sociale, religioso, tradizionale, un luogo comune. Stiamo attenti a questo perché può essere anche così e quindi ci sentiamo inadeguati se io non corrispondo a questi modelli sociali ed ecco che mi sento sbagliata ed ecco che magari mi vado a creare un falso sentimento quando invece la tua anima è felice così, è gioiosa così e deve brillare così. Quindi cerchiamo di discernere da dove arrivano queste emozioni, queste invidie, perché a volte, ripeto, è solo un retaggio culturale, familiare e non qualcosa che mi appartiene, come diciamo carenza mia che io soffro per diciamo una mia indole, spero di essere chiara. Quindi andiamo a decifrare da dove arrivano queste emozioni, da dove arriva questo sentimento, perché, ripeto, quello che ci dimentichiamo spesso è di essere felici, è questo che ci dimentichiamo, ci dimentichiamo di essere felici ed è la prima condizione per viaggiare qua in maniera sana e gioiosa. È questo, al tuo spirito non interessa se tu hai figli, se non ce l'hai, se hai famiglia, se sei singolo, se sei in coppia, il lavoro che fai, non gli interessa niente il tuo spirito, quello che gli interessa è fare un'esperienza di goduria, di gioia, attraverso gli strumenti che tu scegli, attraverso le tue competenze personali, ma sono tutte anagrafiche queste cose legate alla personalità, che poi sappiamo che passa la personalità, ok? Quindi la modalità attraverso la quale tu ti godi la luce che sei, ti godi la vita, non ha importanza, l'importante è che tu cerchi di amarti e di essere felice e questo lo puoi fare benissimo anche senza figli, anche senza partner, anche con un lavoro semplice, cioè in qualsiasi modo, ma lo decidi tu, tu lo devi decidere, non la società per te, non i tuoi genitori per te, non i tuoi amici per te, lo devi decidere tu come vuoi dire e quando sei certa di questo ritrovi il tuo centro e vai avanti come una guerriera, fiera di te, devi essere fiera di te, ecco che non avrai bisogno di invidiare nessuno, perché senti la tua pienezza, devi sentire la tua pienezza, la tua ricchezza interiore, i doni che hai da offrire al mondo, siamo lampade da alimentare costantemente perché il mondo ha bisogno di gente che brilla, di persone che donano gioia e penso che non ci sia un servizio più bello di questo, al di là di come lo fai, ma devi brillare, quindi cerca di essere focalizzata qui. Paola Rinaldi, buonasera, quindi adesso proverai la tecnica, piacere di essere qui. Allora, leggo, Giussi, io non sono mai invidiosa dei beni materiali, non mi interessano ad esempio le macchine di lusso, degli altri, ma mi fai invidia a chi magari si esprime con più cultura, ok, rispetto alla mia, chi ha un grande sapere di conoscenze, infatti cerco sempre di ampliare le mie conoscenze, ma ho sempre dei limiti perché potrei fare meglio. Certo, Giussi, parti da una percezione di mancanza e tu hai scelto come, diciamo, valore per giudicare l'altro, per valutare l'altro, hai scelto il sapere, ok, il sapere mondano, il sapere, la cultura dell'essere umano. Ti suggerisco di mettere in discussione questo tuo parametro, lo vedo un po' limitante e limitato e ti sta limitando e ti stai perdendo molto. Che ne dici di mettere come parametro l'amore? Quanto quella persona riesce ad amare se stessa? Usare questo di parametro ed è questo che poi ti porterà magari a seguire la voce della tua anima che ti può guidare sia ad approfondire un ambito di tuo interesse o anche no? O a scegliere un altro livello di conoscenza, no? Cerca di aprirti un po' di più su questo. Quando vado sui commenti mi ritorno indietro, scusate. Sì, esatto Maria, grazie, ha come il tuo cognome, guerrieri, ok. Allora, intanto prendi nota di un tuo aspetto appunto che stai indiviando, grazie per chi ha condiviso e quindi prendi nota e dai un valore da 0 a 10 perché adesso ci praticeremo la tecnica. Quindi chi è nuovo a questa diretta andremo, vai a picchiettare, tu segui me, vai a picchiettare questi punti del sistema energetico. Il sistema energetico è stato visto scientificamente con la TAC, gli antichi cinesi 5 mila anni fa lo avevano in qualche modo, come dire, rappresentato, lo avevano affermato. Quindi l'essere umano ha questo sistema energetico dove scurre l'energia e quando noi abbiamo un'emotività contratta anche i nostri meridiani possono modificare il loro percorso e di conseguenza possiamo avere dei disturbi anche a livello fisico. Questa tecnica va a sciogliere i, diciamo, traumi emozionali, va a sciogliere un'emotività bloccata, un'esplosione di emozione che non riesco a controllare in un certo momento, un'ansia, una rabbia, qualsiasi cosa. Quindi tu la puoi usare per qualsiasi cosa perché ti aiuta anche a portare consapevolezza su quell'aspetto che tu pensavi essere un problema perché ti cambia anche la percezione, vai a lavorare anche a livello neurofisiologico. Quindi tocca a tutti i sistemi in questa tecnica. Quindi Ignazia, buonasera. Quindi adesso prendi nota su questa tematica che stiamo trattando che è il sentimento dell'invidia, vai a verificare un aspetto. Cerca di non essere troppo certa di non invidiare ma nessuno, stiamo attenti. Abbiamo delle emozioni e sentimenti così profondi che non ce la facciamo, non ce la facciamo sempre accogliere. Io lavoro con la radioestesia, adesso con i maestri, cioè il mio maestro, la mia guida, chiedo a lui quando ho le persone che mi dicono delle problematiche e io vado a verificare, chiedo direttamente a lui quando faccio fatica anche io a percepire. E mi dice chiaramente che ci sono delle cose, che quel blocco c'è, che quel trauma c'è, che quella ferita c'è, quando invece noi siamo a livello cosciente, ma no, sto bene, ma no, qua, eh no. Cioè, attenzione, perché abbiamo tanti strati di sedimentazione delle emozioni, delle convinzioni, alcuni problemi, diciamo, disagi sono stratificati e per andare a toccarli con la consapevolezza non siamo pronti sempre e non ci riusciamo. Da soli non ce la facciamo molto spesso e quindi cerchiamo di non essere così convinti. Soprattutto ascoltiamoci perché le nostre emozioni sono fedeli messaggeri di questi pensieri. Quindi cerchiamo di ascoltarne nel profondo, di darci la possibilità di far emergere tutto quello che c'è e quello che sono pronta adesso ad affrontare, perché non può venire su tutto, sennò mi brucierebbe questa roba qua. Quindi lascia che umilmente, lascia far risalire quello che hai bisogno di metabolizzare, di riconoscere, di perdonare adesso, in questo momento della tua vita. Rossana, buonasera. Va bene? Allora, iniziamo. Da 07, quanto è forte per te? Quello stato di invidia? O magari se tu non la chiami invidia vai a percepire un senso di mancanza dentro di te, un senso di mancanza. Che cosa pensi che ti manchi per essere nella gioia, per essere fiera di te, per essere contenta? Che cosa pensi che ti manchi? Quanto ti fidi della tua luce? Quanto ti fidi del fatto che stai brillando? Maria Rosaria dice, da ragazza ne avevo, ora no, anche se a volte le difficoltà che mi sono scelta, che mi hanno portato allo sfinimento. Di sicuro penso alla facilità di altre persone, ma dura poco, perché sono consapevole che ognuno ha il suo percorso, esatto. Questo almeno a livello intellettuale, ma non del tutto emotivamente. Va bene. Va bene, Maria Rosaria. Allora Clara, sì, ti faccio, forse vuoi che ti ripeta questa distinzione, invidia e ammirazione. Quindi l'invidia nasce da una mancanza e non mi fa provare né gratitudine né amore per la persona che sto invidiando, perché penso che sia, tra virgolette, migliore di me o comunque mi piace quell'aspetto che ha, quella cosa che ha e anche io vorrei essere come lei, no, o come lui o come, però senti la difficoltà di migliorare quell'aspetto e lì tu guardi la persona, non la guardi nell'amore, non sei nell'amore, ok? Nell'ammirazione invece c'è amore, cioè ti ammiro, wow, grazie che mi stai insegnando questo in qualche modo, cioè apprendi, ricevi quello che la persona vuole offrirti, ok? L'ammirazione è questo, è un sentimento amorevole comunque, cioè amore e non ti fa, cioè se io ammiro l'altro non è che poi io mi sento, cioè da meno, non mi sento inadeguata, ok? Ammirare vuol dire che sì, vedo che l'altro mi può insegnare quella cosa, che lì sta più avanti di me, ma io ho fiducia nell'imparare, cioè so che anch'io ci arriverò. L'ammirazione è propositiva, non mi fa perdere speranza, non mi fa sentire giù, non mi fa stare giù, ok? Bene, andiamo, procediamo. Questa invidia, io dico queste cose, quindi pronuncio questo stato d'animo, quando picchietti tu devi dire quello che senti, in questo caso parliamo dell'invidia. Tu puoi ripetere le parole dopo di me, oppure puoi ascoltare le mie parole, la frequenza delle mie parole, puoi aggiungere quello che ti viene da aggiungere, io parlerò in modo generale. Questa invidia, sembra che per gli altri sia più facile vivere o affrontare delle difficoltà. Mi sento da meno, mi sento inadeguata. Gli altri sono migliori di me, gli altri sanno più di me, gli altri brillano più di me, sanno mostrare di più i loro talenti, sono più soddisfatti di me nella mia vita, nella vita, hanno più di me. Io non mi sento ok. Questo sentimento di invidia, questo sentimento di invidia è un vuoto dentro di me, come se non fossi capace di portare quella compensazione, come se ho perso la speranza nel migliorare in quell'aspetto, come se mi fossi rassegnata a quella mancanza, come se non merito di stare meglio su quell'aspetto, come se mi sono rassegnata. Questa invidia. Non mi amo abbastanza. Non mi amo abbastanza. Non credo nelle mie capacità di migliorare. Non credo nelle mie capacità. Questo sentimento di invidia di cui mi vergogno. Faccio fatica ad ammetterlo. Non mi fa avere un sentimento di amore sincero verso gli altri. Faccio fatica ad amare me stessa. Faccio fatica ad amare gli altri. Questo sentimento di invidia. sono convinta di non poter migliorare. Ho perso la speranza. Penso di non avere nulla da dare al mondo. Penso di essere misera. Penso di non avere quello che hanno gli altri. Di non essere abbastanza importante. Di non meritare attenzioni. O sono delusa di alcuni miei aspetti. Non accetto alcuni miei aspetti. Non mi piacciono alcuni miei aspetti. Non riesco ad accettarli. Sono in conflitto con me stessa. Penso di non meritare di essere felice, di brillare di più e di migliorare. Ora chiudi gli occhi, rilassa le spalle, senti l'energia che vibra dentro di te, come circola, se ci sono sensazioni di formicolio, vibrazione. Senti come è per te. Mentre l'aria entra ed esce. Ascolta il tuo respiro. E dopo aver ascoltato il tuo corpo fisico, ascolta le emozioni. Qual è la parola che ti ha colpito? Che emozione c'è adesso? Come è stato questo giro di tapping per te? E appena puoi, condividi. Il nostro corpo fisico, come sapete, non mente. Non mente. Quindi dobbiamo ascoltare bene, con attenzione, i messaggi, i segnali che ci invia attraverso le emozioni, le sensazioni fisiche. Perché così possiamo discernere e comprendere il nostro stato d'animo e le risposte che abbiamo in relazione ad un rapporto, ad una persona, ad una situazione. Anastasia dice, mi ha colpito la prova brillare. Sì. E poi, quando riconosci la luce nell'altro, tu la riconosci perché è tua, perché ce l'hai anche tu. Altrimenti non sapresti chiamarla. E ricordati che siamo amati allo stesso modo, alla stessa stregua, dalla stessa intelligenza divina. Siamo amati tutti allo stesso modo. Quindi, sia tu che ci creda o no, questo poi è un tuo problema. Ma siamo amati tutti allo stesso modo e tutti abbiamo lo stesso potenziale di brillare. Paola Rinaldi dice, sento vibrare tantissimo le braccia. Ok, facciamole vibrare. È energia attivata che si sta muovendo. Ottimo. Gemma, mi ha colpito, mi credo misera. Ottimo. Appunta, appunta questo, appuntate le cose che vi colpiscono. Perché qui, Gemma, ci puoi fare un giro solo con questa parola. Mi sento misera, mi sento vuota. Maria Grazia, appeso sulle spalle. Non mi accetto. Frase che mi ha colpito. Ok. Morena dice, mi ha colpito aver perso la speranza. Ok. Quindi vedete quante sfaccettature compongono questo sentimento di Emilia. Formicole alle mani. Ok. Quindi c'è una sorta di rassegnazione dietro questo sentimento, no? Cioè non ci credo che posso migliorare. Non ci credo che posso brillare anche io, che posso essere felice anch'io, che posso realizzarmi in quel lavoro, che posso realizzarmi in una relazione sentimentale, invidiare magari anche una coppia di amici, no? Perché stanno bene insieme. Ecco, in realtà dobbiamo utilizzare questo sentimento solo per verificare il livello di frustrazione che viviamo nella nostra vita, ma non per continuare ad oltranza con questo sentimento, perché stiamo disperdendo energia. Piuttosto che invidiare, continuare ad invidiare, io devo lavorare su di me e andare a prendermi cura delle mie carenze, delle mie mancanze, riconoscere quali sono le convinzioni, quali sono i pensieri che mi tengono bloccata, che non mi fanno evolvere, che mi fanno credere che non posso evolvere. Quindi chi ti ha detto che rimarrai sempre così? Chi ti ha detto che non puoi migliorare? Come ti sei costruita questa convinzione? Usa l'invidia per lavorare dentro di te, per metterti in gioco e non per piangerti addosso e non essere poi felice per le gioie degli altri, perché la persona invidiosa non sa godere delle gioie degli altri. Se quindi un tuo collega riceve una promozione, qualcosa che ti piace anche a te, tu non sei felice, non puoi partecipare alle gioie degli altri. Questo è veramente triste, perché vuol dire che non c'è amicizia, non c'è amore autentico, non c'è, c'è solo solitudine. Invece è molto bello essere felici per i risultati degli altri e deve essere così nell'amore. Quando sei nella frequenza dell'amore, tu sei contento per l'altro. Se hai trovato il partner più compatibile, se si gode la vita, se il lavoro gli va bene, se guadagna bene, se hai un bel rapporto con i figli, devi essere contento per l'altro. Questo puoi raggiungerlo se ti ami, cioè se credi nell'amore, nonostante le difficoltà. La rassegnazione, perso la speranza, Maria Grazia, ok? Giuse, la gioia condivisa si moltiplica? Assolutamente sì. Sì. E nella gioia, chiaramente, cioè, è solo nell'accettazione di tutti i miei aspetti che posso migliorare, posso darmi il permesso di brillare sempre di più e dipende poi da quello che vuoi. La persona, diciamo, che poi cade nella assenza di speranza, nella rassegnazione, non ha neanche degli obiettivi, non se li pone, perché gli obiettivi poi mi danno la spinta a mettermi in gioco. Quindi, fissa anche quello che tu vuoi raggiungere nella tua vita, cioè non perdere il focus, non perdere il faro. Vuoi vivere in una relazione appagante, senti che, con tutta te stessa, di realizzare quella cosa? Allora, affidati a questa cosa, cioè, credici, stai lì, in quella frequenza, però tutti i tuoi corpi devono essere d'accordo, eh? Quando quella cosa è tua, che senti che la devi avere nella tua vita, la devi vivere, ti arriverà, però devi mantenere lì la presenza, ossia, deve essere un cielo sereno, non ci devono essere pensieri del tipo, ma no, ma tanto, come diverse donne che nel tempo ho sentito, ma i uomini sono tutti uguali, ma no, no, no. Quando tu decidi, no, per me c'è quella cosa, io voglio vivere il mio lavoro in questo modo, devi essere ferma lì e ti arriva, ok? Però ci devi lavorare. Questo vuol dire assumersi la responsabilità al 100% di quello che devo migliorare. Se non ti assumi la tua responsabilità, chiaramente nessuno può fare il lavoro per te e rimarrai così. Cristina Villa, buonasera. Maria Grazia dice, può succedere che arrivi in questo stato dopo lunghe battaglie e tentativi? Forse non sono stati affrontati nel modo giusto? Allora, quando arrivano le cose che desideriamo veramente, non lo sappiamo. Quello che noi dobbiamo fare è stare nel processo, è stare nel viaggio. Quello che noi dobbiamo fare, che siamo chiamati a fare, è stare dentro il presente, osservare bene il presente, perché in base a quello che io percepisco nel presente, la chiarezza del mio percepito, mi porta a costruire un futuro più chiaro e soprattutto come io lo desidero, perché nel presente tu vai ad affrontare tutto quello che ti arriva, le esperienze che ti arrivano e fidati che quello che ti arriva è quello che ti serve. Devi lavorare, casomai, sulle convinzioni, se ci sono dei pensieri che ti bloccano nel farti arrivare quello che desideri. Quindi vai a ripulire il tuo pensiero, perché se pensi di non meritare o di non essere degna, chiaramente si blocca tutto, ma lo decidi tu però con questi pensieri. Quindi vai ad osservare le tue convinzioni. Federica Saracco, fatico a lasciare andare, ripenso alle situazioni in cui mi feriscono per diversi giorni e mi sento in colpa perché mi isolo e vorrei uscire a fluire, riuscire a fluire maggiormente, più velocemente. Con questa tecnica Federica se la pratichi tutti i giorni secondo me ti dà una grossa spinta a fluire con le emozioni, ok? E a lasciare andare, a perdonarti, a perdonarti. Ora, ripartiamo con un nuovo giro su, ho visto che ci sono molti senza speranza, questa frequenza, bassa frequenza dove appunto non posso migliorare in qualche modo, no? Andiamo questo. prego Federica. Ho perso la speranza, penso di non riuscire a realizzare quello che desidero nella mia vita, penso di non riuscire a realizzarlo. Forse sono ancora, come dire, sono un po' schiacciata dalle esperienze precedenti, provo ancora dolore per le esperienze precedenti, non ho ancora lasciato andare, non ho perdonato, non ho forse imparato la lezione. Faccio fatica a provare fiducia nel mio spirito, ad avere fiducia nella vita che mi manda le esperienze che mi servono. Faccio fatica ad avere fiducia nella vita, fiducia in me stessa, nelle mie capacità. Faccio fatica ad essere ferma sui miei obiettivi. Antonella Harvey, ok, ho difficoltà ad allontanare i cattivi pensieri. È un allenamento questo, Antonella. Vai a vedere anche dove arrivano questi pensieri, però. Seguiamole un po' queste tracce, sono tracce. Da dove arrivano questi pensieri? Qual è lo scopo di questi pensieri? A cosa mi servono? Ho perso la speranza. Penso di non essere degna, di essere più felice, di godermi questa vita, di vivere quello che veramente desidero. Ho perso la speranza. faccio fatica a brillare. Come se oramai è tardi. Non faccio in tempo. Mi sento a rassegnare. ho paura di non avere energia per realizzare quello che desidero. Ho paura che non arriverà mai. Ho paura di non meritarlo. Ho paura di non meritarlo. Gli altri sì e io no. Ho paura di non meritarlo. Ma mi apro la possibilità di rompere i miei schemi, di mettere in discussione le mie convinzioni. Mi apro la possibilità di affidarmi maggiormente al mio spirito, di seguire maggiormente la voce della mia anima. E soprattutto mi apro la possibilità di invocare l'aiuto alle mie guide, di chiedere più aiuto alle mie guide e di farmi capire come io mi posso muovere in questa vita. Mi apro la possibilità di essere più fiduciosa nella vita, nel mio percorso evolutivo. E mi apro la possibilità di essere ferma sui miei obiettivi, sui miei desideri e di non rinunciare così facilmente ai miei desideri. Ma di essere ferma su quello che sento di volere nella mia vita. Di volere con onestà, con chiarezza, d'intento. Ok. Di nuovo, chiudo gli occhi, rilasso le spalle, respiro. Respira in profondità, senti l'aria che entra e che esce. Ascolti il tuo corpo fisico, i vari segnali. Che parola in questo caso ti ha colpito? Che stato d'animo c'è ora? Quando vuoi puoi condividere. Noi siamo qui per amare noi stessi, imparare ad amare noi stessi. E lo fai attraverso la realizzazione dei tuoi progetti, dei tuoi desideri, perché quei progetti sono i canali migliori per esprimere tutta la tua luce, per esprimere al meglio i tuoi talenti, i tuoi potenziali. Esatto, Claudia, rimanere ferma nei miei obiettivi. Scrivi i tuoi obiettivi. Scrivili. Entro quanto tempo li vuoi realizzare? Più vai nel dettaglio, più è chiaro ciò che vuoi, più l'universo si attiva, il tuo spirito si attiva per fartelo arrivare. Descrivi ad esempio come vuoi la tua relazione sentimentale, come vuoi questo partner, quali sono i tuoi principi, i tuoi valori. Il lavoro lo stesso. Descrivi come vuoi vivere quella situazione. Adriana mi ha colpita le parole rimanere fermo nei miei obiettivi, che non so quali sono purtroppo. Ok. Quindi in questo momento Adriana mi sta dicendo che non sai che cosa vuoi dalla vita, non sai dove vuoi portare miglioramento, non sai che cosa vuoi raggiungere. Era grazia, rimanere fermo nei miei obiettivi, questo è molto condiviso. Peso alle spalle ma riprendere lo zaino, ricominciare la scalata. Ok. Sì, rimanere ferma nei tuoi obiettivi. Non è perché la maggioranza dice questo, allora io mollo. No, no, no. Perché poi succede questo, che se tu hai una convinzione limitante, ti vai ad attrarre persone che vanno a potenziare la tua convinzione. Ed ecco che ti incastri da sola. Comincia a cambiare pensiero e comincerai a cambiare anche le relazioni che hai e le situazioni che andrai ad incontrare. Quindi si attenta, perché cercherai le persone che ti daranno ragione sulle tue convinzioni. Quindi il nostro ego è molto furbo. Attenzione. Allora, esatto, non so cosa voglio raggiungere. Va bene, Adriana, c'hai il blocco dello scrittore. Va benissimo così. Può essere che tu adesso debba stare senza niente, oziare, libera, stare step by step nel flusso di vita, vivere quello che accade giorno dopo giorno. Va bene, dipende dalla fase evolutiva che sta attraversando. Ma nel rosario solo calmarmi, poi un obiettivo chiaro. Ok, nera. Se uno non ha obiettivi, no, no, assolutamente. Non è sbagliato niente. Non giudichiamo nulla. Ho fatto, diciamo, un esempio il discorso degli obiettivi, nel senso come tu vuoi vivere quell'ambito nella tua vita, come vuoi vivere il lavoro che fai o che non fai. Ok, in questo senso. Avere un po' dei riferimenti. Ecco, forse non ho utilizzato proprio la parola adeguata o obiettivi non bastano, non basta come termine, ma riferimenti. Quindi se adesso non hai obiettivi, va benissimo. Va benissimo. Sì, forse più riferimenti intendevo. Sulle aree della tua vita, i riferimenti, cioè lo stesso l'aspetto, ad esempio, che tu vuoi migliorare di te, oppure il riferimento riguardo alle relazioni amicali, a una relazione sentimentale, oppure come vuoi stare nel lavoro, come vuoi vivere un'esperienza lavorativa, riferimenti, come ti vuoi godere la vita, come te la prefiguri questa cosa. Cioè, ma la paura di avere degli obiettivi considerati dagli altri, ma abbastanza grandi. Ok. E qui sì, abbiamo la paura di essere giudicati, la paura di... sì, perché anche qui, vedi, c'è la moda degli obiettivi, no? Quindi purtroppo riusciamo facilmente a rendere il luogo comune qualsiasi cosa e a metterlo sotto giudizio. Ma ci mancherebbe. Ognuno ha i propri obiettivi, ce l'ha o non ce l'ha. Ognuno deve procedere in base a quello che sente. E questo è ingiudicabile nel modo più assoluto. Sai tu quello che ti fa felice, Gemma? Io dico ai miei figli, io voglio che siate felici. Poi che tu faccia, che ne so, lo spazzino, faccia... o l'amministratore delegato per la grande azienda. Non mi interessa. Io voglio che tu sia felice. Quello che fai non mi interessa. Basta che sia in allineamento con la tua anima. Quindi questo dobbiamo trovare. Cioè, noi ci siamo dimenticati l'anima. Ci siamo dimenticati l'ascolto profondo della nostra anima. E quindi dobbiamo stare lì. Sai tu, Gemma, quello che è per te. Lasciamo stare gli altri. Non ci interessa quello che dicono gli altri. Quando tu sei sicura di quello che puoi raggiungere, sei nella gioia, nella pienezza di te. Perché? Lo sai tu quello che vale per te. E lasciamo stare gli altri. Non dobbiamo essere capite su questo. Tu devi sapere quello che è buono per te. Antonella Arvi. Sono decisa più che mai ad andare avanti nel realizzare i miei sogni. Ho dovuto stravolgere la mia vita e allora ho bisogno di andare avanti nel mio cammino. Sì, 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 sì. Roberta, buonasera. Lasciamo stare il tempo lineare. Perché non è detto che quello che non ho fatto a cinque anni io non posso in qualche modo farlo adesso. Ok? Lasciamo stare il tempo lineare che è una grande buffonata. Quindi stai nella tua anima. Il tempo nell'anima ci serve. Stai lì e ascolta quello che ti dice il tuo cuore. E devi seguire quello. Perché poi, se ci facciamo violenza, se andiamo ad opprimere dei nostri talenti, dei nostri doni, stiamo male. Stiamo male. E lasciati sorprendere anche dalla vita. Perché ti possono arrivare dei doni meravigliosi. Ti possono arrivare dei doni meravigliosi. Sì, ti possono arrivare delle cose che tu non ci credi, non ci credi. Quello che sto vivendo adesso anche io, Anna Rosa, buonasera. Roberta che ha messo, buonasera. Una volta ho sentito che le persone con gli occhi grandi hanno un cuore grande. Ok? Quindi io mi sono scoperta a parlare con i morti. Per me è wow. E la devo accettare questa cosa, mi ha detto il mio maestro. Perché se no ho fatto male. Quindi capite? Devo aiutare i vivi e i morti. Quindi devo in qualche modo utilizzare le mie energie anche per le altre dimensioni. E ti dico di più, questi cari dei fondi mi parlano e mi dicono i loro problemi. E io che faccio? Accendo le candele che io faccio per aiutarli ad andare nel regno della luce. E quello che tu non riesci a risolvere in questa vita, te lo riporti dall'altra parte. Quindi sappi che se tu, che ne so, muori di invidia o di gelosia, sappi che come anima devi affrontare questa, devi superare questa situazione. E nel, come dire, nell'eterno spazio di Dio, nel regno della luce, ecco, nel regno della luce, ci sono tante dimensioni quanti sono i bisogni dell'anima. Cioè, tante scuole, quanti sono, diciamo, quello che le anime devono recuperare, quello che devono imparare. Ok? Quindi, dato che sei qui, lavora adesso più che puoi, così andrai via quando sarà il momento, in modo più leggero. Quindi questo. E sì, ci sono sette minuti ancora. Allora, facciamo adesso un giro in positivo. Ti ricordo che questa tecnica si usa e nasce come tecnica di pulizia, quindi per liberarci dalle cose che ci danno fastidio, qualsiasi cosa, ok, di pulizia. Perché noi in realtà siamo già dei diamanti, dobbiamo solo spolverarci, perché siamo luce. Quindi dobbiamo solo liberarci. Però possiamo utilizzare anche questa tecnica in positivo per rafforzare una sensazione, un'emozione, ok? Quindi la possiamo utilizzare anche in questo modo. Adesso facciamo un giro. Allora. Anna Rosa Longo, buonasera. Scusate se non vi leggo, perché mi sfalsano. So che devo affrontare il mio intervento per aiutare l'evoluzione del percorso di mia mamma, rizionare le mie gambe e come fortificarle le sue proprie dire, ok. Nella, non riesco a far capire a mia sorella che non dovrebbe odiarmi. Non mi parla, mi ha rifiutata, basta mandare le luce. Allora, qui c'è un irrisolto, Nedra. Probabilmente c'è un irrisolto di altre vite. Quindi, fai lo ponopono con tua sorella. Se ti odia c'è un motivo. Probabilmente c'è un riequilibrio da fare, ok? C'è qualcosa che tu forse hai fatto a lei in altre vite. Quindi, fai lo ponopono. Chiedigli perdonami. Perdonami se mi odi. Mi dispiace. Perdonami. Grazie, ti amo. Fai lo ponopono. E vai avanti, figlia, non vedi che cambia la percezione. Mandare le luce, sì, va bene. Però non ce la fai a mandare le luce. A mandare le luce perché ti dà fastidio che lei ti odia. Quindi rispetta le tue emozioni e vai sul perdono perché c'è qualcosa probabilmente che dovete equilibrare. Accetta che lei adesso ti odia comunque. Accetta questa cosa perché può essere anche solo un tuo problema. Però non te lo so dire qui. Però fai lo ponopono comunque che va sempre bene, ok? Facciamo un giro in positivo e ripete a voce alta Io sono una creatura meravigliosa Io sono un'anima di luce Io sono una splendida creatura celeste Ho luce da donare al mondo intero Ho gioia da vendere Io sono illuminata dalla mia gioia Il mio cuore è il mio faro Ho amore da offrire a chiunque Ho amore per chiunque incontro nella mia vita Io scelgo di vedere ogni fratello nella luce Io scelgo di vedere ogni fratello nella sua regalità Io scelgo di onorare la mia luce e quella degli altri Io scelgo di essere nella gioia nonostante le difficoltà Io sono felice Io sono felice di essere nella gioia Io sono felice di essere amata H24 Io sono amata Io sono una creatura completamente amata Io sono amata Io sono un aspetto del divino che si manifesta nella carne Io sono puro amore Grazie 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 Respiro e lascio andare Esatto Rosanna, brava senti come scorre l'energia ora cosa provi ora senti come per te noi siamo tanto amati siamo creature amate i maestri che mi stanno arrivando mi stanno dicendo ogni tanto la rimando diverso per dirmi che il mondo è stato liberato accendete le luci di casa celebrate la gioia nei vostri cuori mi dicono tutte queste cose meravigliose il mondo è stato liberato il mondo è stato liberato gioite e accogliete il nuovo mondo che sta emergendo che porta il colore dell'oro e dobbiamo creare le nuove fondamenta per il nuovo mondo e lo possiamo fare solo se decidiamo di brillarne la gioia perché il mondo ha bisogno di questo costantemente mi dicono questo tutti i maestri quindi cerchiamo di essere focalità di qui e di lasciare andare i pensieri limitanti ok ma di essere nella gioia gioisci questo è il tuo mandato gioisci gioisci sta nella gioia il meglio sta per arrivare quindi rimani con questi pensieri e quando imparerai a contattarrete guida e potrai sentire il loro amore che è veramente meraviglioso c'è la mia guida che mi fa dei saluti pazzeschi amata bea celeste amata figlia della luce amata è una roba meravigliosa meravigliosa e quindi permettiamoci di godere di questo amore che veramente veramente ovunque 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 maria grazia si c'è l'io solo di san germain che puoi scaricare download gratuito dalla casa editrice stazione celeste ed è secondo me molto importante leggerlo quindi siamo in conclusione di questa diretta io vi aspetto fra due martedì alle 20 e 30 debora picchietta sui tuoi blocchi ok quindi si rimane nascolto e picchietta sui blocchi bene quindi grazie a voi per essere stati presenti qui grazie per la vostra luce per il lavoro che abbiamo fatto insieme perché questo aumenta le vibrazioni della terra più ti liberi da le tue paure e più liberi tante anime quindi sappi che il tuo bene è il bene di tante anime e stai facendo molto per il mondo quindi continua così a lavorare su di te e a brillare non mollare ok ci vediamo fra due martedì ciao vi abbraccio